Allora, adesso ci sta una cantante che lei è da morto che non canta e oggi vuole tornare alla riparta quindi sta qui stasera diciamo per un nuovo dedotto per tutti quanti voi, signori e signori Tenza Prete! Allora, veni qua Mi fai sentire un pochettino le tue cose del passato? No, mi fai sentire Grazie anche perché ho evitato che spessi lo spettacolo Io ringrazio che ve l'avete accettato e voglio che dici un pochettino le tue cose e il lavoro che hai fatto Diciamo che Lugia Fiscacini che ho avuto una mia vita è di cantare con me la vostra e la vostra un po' per me E un applauso a un grande dottor Fiscacini Grazie mille Bravissima Ora cosa ci vuoi ascoltare? Eh, facciami... Un po' per il giro, va bene? Va bene? Siete pronti? Signore e signori, Elza Prete Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie a tutti 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 Grazie a tutti